Immaginate di avere a disposizione un mezzo rivoluzionario per dimezzare i tempi di viaggio dall'Europa all'America e di farlo con stile, ampi saloni, una doccia, camere private e un ristorante e il tutto non per arrivare a qualche porto sulla costa ma direttamente nelle principali città del continente americano e non sto parlando di qualche strano aereo supersonico a decollo verticale ma dei dirigibili che più di 90 anni fa facevano regolare traffico di linea da e per l'America al doppio di velocità di una nave da crociera e potrete immaginare alla luce di queste premesse che tra il 1928 e il 1937 si pensava che i dirigibili fossero il futuro le navi da crociera e transatlantici erano lenti e i dirigibili invece potevano viaggiare all'incredibile velocità di 100 km all'ora che, ok, comparati a un aereo non sono niente ma, hey, gli aerei non esistevano, di linea si intende pensate al 1929 appunto, il primo volo transatlantico di un aereo, il primo nella storia, era avvenuto solo due anni prima ed era carichissimo di benzina per riuscire a fare la traversata e portare i passeggeri non era certo pensabile figuratevi il volo di linea appunto a parte i caproni che già lo sognava e già lo vedeva possibile il volo di linea ma quella è un'altra storia, ne abbiamo parlato in questo video, vi lascio alla scheda riguardo al bellissimo caproni CA-60 comunque, niente aerei, le navi viaggiavano a 50 km all'ora quindi dirigibili a 100 km all'ora sono il futuro futuro che non è durato un attimo fa vi ho dato due date ben precise 1928-1937 perché una finestra così definita? è perché successe una catastrofe tra un attimo ne parliamo ma pose una fine netta all'era delle navi volanti navi volanti sì, erano proprio pensati come delle navi perché quello esisteva all'epoca quindi c'era il capitano, il ponte di comando addirittura il comando del telegrafo motore e al contrario di quello che si potrebbe pensare vedendo, non so, questa immagine lo spazio per i passeggeri non era solo la gondola ma anche all'interno del pallone c'erano ampie camere divise dalla struttura che conteneva l'idrogeno ed erano proprio diversi come struttura dai moderni palloni o dirigibili tipo quello che ho visto a Friedrichshafen dello Zeppelin quelli degli anni 20 erano dirigibili rigidi con una struttura di leghe metalliche leggere tipo il dura alluminio e poi all'interno di questa struttura veniva ricavato lo spazio per i palloni di idrogeno e per la parte dedicata ai passaggeri e a proposito di spazio, parlando di ingombero ne occupavano tanto pensate, il dirigibile Hindenburg è stato ed è tuttora, ad oggi l'oggetto volante più grande mai costruito dall'uomo non ha neanche senso che vi dica un valore di metri guardatelo solo in confronto con il Boeing 747 e questo perché l'idrogeno come gas solleva poco ma fa poca spinta di Archimede praticamente nulla e quindi per tirare su qualche decina di passeggeri appunto il carico pagante serviva una quantità immensa del gas e visto che stiamo parlando di peso iniziamo a sozionare un po' una lista dei contro dei problemi del volare con i dirigibili partendo proprio dal peso bisognava barattare peso col tempo nel senso per fare un viaggio più breve dovevi viaggiare più leggero e questo compromesso era abbastanza radicale per i viaggiatori dell'epoca avete presente la prima classe del Titanic nel film? marmo ovunque, il bagno privato il cassaforte, il caminetto divanetti, poltrone ecco, per viaggiare al doppio della velocità rispetto al Titanic bisognava sacrificare molto quindi sui dirigibili il bagno era condiviso c'erano quattro bagni per 76 passeggeri di doccia ce n'era una sola e a proposito di doccia l'acqua pesa quindi andava razionata i letti erano letti a castello fatti di alluminio e tutti bucati per tirar giù ogni possibile grammo e anche le sedie se ci fate caso tutto alleggerito perfino il pianoforte nello lounge dell'Hinderburg era alleggerito ma erano compromessi che si doveva accettare se si voleva viaggiare due giorni invece che cinque e comunque tenete sempre conto che si trattava di biglietti che aggiustati ai prezzi moderni sarebbero da decine di migliaia di euro quindi ok il comfort non era quello delle navi ma era comunque al secondo posto nell'ordine di priorità subito dopo il peso il comfort dei passeggeri paganti almeno i motoristi e i meccanici invece spesso dormivano nelle travature del telaio perché non avevano nemmeno un letto a bordo ma in realtà anche senza avere dei letti lo spazio ce l'avevano sì perché l'enorme volume all'interno del dirigibile era occupato da sacche di gas sì ma all'interno dell'enorme scheletro di alluminio era tutto pieno di passerelle per permettere a meccanici e motoristi di raggiungere qualsiasi punto del dirigibile e fare manutenzione in volo pensate potevano addirittura salire sopra al dirigibile e camminarci in volo bisognava poter uscire considerate sempre che era un coso non pressurizzato cioè come abbiamo detto è un'intelaiatura ma poi le sacche sono dentro indipendenti quindi si poteva entrare e uscire anche per andare a fare manutenzione ai motori che erano a sbalzo fuori dalla cellula e si potevano raggiungere con dei ponteggi per andare appunto a metterci le mani a fare manutenzione mentre il motore stava girando e ovviamente il tutto con gli standard di sicurezza degli anni venti quindi sicuramente niente imbragature niente parapetti corde, scale a pioli il 31 marzo 1936 entra in servizio Linderburg un dirigibile a struttura rigida di alluminio 24 metri più corto del Titanic con all'interno 211.000 metri cubi di elio spinto da quattro motori Benz da 1200 cavalli finanziato in parte da Hitler portava le svastiche sulle derive dando prova della superiorità tedesca in tutto il mondo superiorità principalmente tecnologica complici anche i record che questo dirigibile comincia ad accumulare ad esempio la più veloce traversata oceanica avanti e indietro che ha compiuto in 5 giorni 19 ore e 51 minuti come sappiamo però i rapporti tra la Germania nazista e l'America non erano dei più distesi e una certa l'America decise di porre l'embargo sull'elio alla Germania e la Germania trovandosi senza elio decise di riempire il dirigibile con idrogeno invece si sapeva ovviamente che l'idrogeno è molto infiammabile e vennero prese tutte le precauzioni del caso e le sicurezze per evitare un incendio considerate che nessuno voleva vedere un dirigibile soprattutto uno così emblematico bruciare ma gli Zeppelin avevano accumulato un record impressionante in termini di sicurezza ad esempio il dirigibile Graf Zeppelin aveva volato tranquillamente senza nessun incidente per più di un milione e mezzo di chilometri compreso la prima circunnavigazione del globo e quindi i tedeschi erano tranquilli che le loro procedure di sicurezza fossero rigorose, seguite ed efficaci e invece nonostante tutto il 6 maggio del 1937 quindi dopo circa un anno di vita alle 19.25 Lindenburg prese fuoco e venne completamente distrutto nel giro di circa 30 secondi mentre stava cercando di attraccare al pilone d'ormeggio della stazione aeronavale di Lakehurst in New Jersey nel disastro morirono 35 delle 97 persone a bordo e se il fatto che il dirigibile venne completamente cancellato in 30 secondi sicuramente non aiutò a raccogliere informazioni sull'accaduto si presume che l'idrogeno libero che aveva dato il via al rogo arrivasse da una perdita in una delle sacche e che avesse preso fuoco a causa delle scariche di elettricità statica accumulata dopo un lungo volo nel brutto tempo considerate che un mezzo volante non è messo a terra quindi ci sta che accumuli elettricità statica e dopo quando arriva in contatto con la terra ti dia la scossa come quando metti la mano sulla portina della macchina molte persone comunque riuscirono a salvarsi saltando giù dal dirigibile che stava attraccando quindi era vicino a terra infatti questo non fu né il primo disastro con i dirigibili né il più grave ma fu l'ultimo ponendo di colpo fine all'era dei dirigibili e il perché è semplice questo evento fu ripreso in video e commentato in diretta radio in tempo reale quindi le immagini dell'enorme aeronave che in pochissimi secondi bruciò completamente fecero il giro del mondo c'erano dei video che l'opinione pubblica poteva vedersi schiaffata in faccia le persone ustionate che scappavano dai rottami furono viste da tutti assicurando di colpo la fine completa dei viaggi commerciali indirigibile fu l'unica causa? probabilmente no in realtà i video fecero certo scalpore ma ricordiamoci del periodo storico di lì a pochissimo annessione della Polonia sarebbe scoppiata la guerra e i viaggi intercontinentali transatlantici sarebbero smessi in ogni caso e poi curiosità in quegli stessi anni stavano cominciando a prendere piede i voli transoceanici a bordo di idrovolanti ma questa è un'altra storia che magari racconteremo in un altro video mentre voi mettete bollice in su a questo vi dico che per questo video è tutto se volete un video interessante sugli idrovolanti quello che vi ho nominato prima il caproni CA60 non vi posso lasciare il link un'altra volta ma in caso lo trovate anche in descrizione per questo video è tutto controllate di essere iscritti al canale se no vi perdete questi video belli in futuro che ne escono in continuazione ciao a tutti